Ciao a tutti amici di CriptoGem e benvenuti a un nuovo video. Allora so che ieri vi è piaciuto il video che ho postato, quello in cui faccio la previsione dei 10.000. Se non l'avete visto vi invito ad andare a guardarlo, è stato veramente uno dei video che mi hanno, veramente la gente mi ha detto che gli è piaciuto tanto e che gli sembrava comunque logico dal punto di vista matematico. Ovviamente ricordate che sono tutte analisi puramente tecniche, soprattutto quel video quindi non basa niente sul fatto che qualunque catastrofe possa succedere o qualunque cambiamento nella politica mondiale. Oggi andiamo a vedere un po' di notizie intanto, poi andiamo a vedere i grafici come piace a voi. Allora intanto guardiamo un po' com'è il, diciamo l'aspetto per quanto riguarda Bitcoin. Vediamo che il total market cap di Bitcoin, intanto la dominance di Bitcoin è di 39.3, vuol dire che è veramente scesa tantissimo. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo visto Bitcoin comunque fare fatica ad arrivare alle principali medie mobili, quelle esponenziali anche, invece Ethereum e altri altcoin praticamente fare il 200%, il 100% e tutti questi numeri assurdi che abbiamo visto in precedenza. Alcune delle ragioni che penso sia anche questo è il fatto che ovviamente i retailer sono molto speculativi all'interno delle criptovalute in questo momento, cioè questo è un mercato come quello dello stock al momento guidato dai retailer, cioè che loro comprano gli asset basandosi su quello che succedeva pochi mesi fa, dicono ah molto, costa poco, compro, entro e quindi è guidato molto dai retailer, mentre vediamo che le istituzioni, diciamo i grandi soldi, i grandi waste sono un po' da parte al momento perché magari non so, sanno qualcosa in più, hanno delle informazioni maggiori, qualunque cosa sia, e ovviamente sappiamo che i retailer non amano tantissimo Bitcoin, in senso, chi ama Bitcoin sono o i massimalisti o chi è entrato molto presto in Bitcoin, quindi lo holda, o chi già ha dei portafogli molto grossi, quindi per lui già un 2x, un 3x è tantissimo e investe in Bitcoin, quindi i waste. Per quanto riguarda le altre altcoins, vediamo che i waste sono i primi a uscire mentre i retailer continuano a pomparli, quindi il classico Joe, il classico Mario Rossi, come volete chiamarlo, investe in Matic, investe nelle small cap, nelle micro cap, perché ovviamente vuole accelerare la sua rendita, quindi vuole fare 200, 300, 400 per cento, sogna di fare il milione e cose del genere. Andiamo a vedere intanto però che una volta che comincerà a salire questo numero, attenzione perché cominceranno a soffrire all coin, infatti andiamo adesso a vedere BTCD, andiamo a vedere subito la Dominance, insieme. Allora la Dominance l'abbiamo studiata parecchie volte, come vedete la Dominance si sta avvicinando ai minimi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che da qui è molto possibile che faccia un nuovo pump, se fa un nuovo pump vedrete soffrire l'altcoin, vuol dire che ci sarà un outflow dalle altcoin in Bitcoin, ovviamente quello che io sto osservando in questo momento è che c'è una battaglia tra i minimi e i massimi in Bitcoin, come vedete qui, deve rompere da qualche parte, romperà la rottura di questa Dominance, secondo me, è quella che darà il via alla parte finale del bull market, del beer market scusate, quindi la rottura definitiva di questa cosa. Se noi dovessimo vedere per esempio Bitcoin rompere al di sotto di questa cosa qui e andare giù così, e la sua Dominance scendere così tanto, è anche molto probabile che vediamo uno stallo del mercato, perché ovviamente sappiamo che è Bitcoin a guidare il mercato, a meno che i team non prenda il suo posto e guidi lui il mercato, le criptovalute sia lui il benchmark del mercato. Se mettiamo Bitcoin rompere di sopra di questo, quindi tornare per esempio, come nei precedenti beer market, sappiamo che comunque ha sempre, come per esempio qua vedete qui per esempio 2018, questo è il punto, diciamo il beer market dove tutti investivano, ha rotto qua, vedete è iniziato il beer market quello serio, in cui abbiamo visto numeri sempre più bassi per Bitcoin, per poi cominciare a scendere, poi quando comincia a scendere vuol dire che c'è l'all coin season, e l'all coin season solitamente danno il via a diciamo la fine del bull market, quindi vediamo che adesso è entrato in questa zona, fatemi cancellare un attimo il GTA, è tornato in questa zona e adesso se sale su e fa una cosa simile a quella che è fatto qua, allora sarà l'inizio della parte finale del beer market, potrebbe durare un anno o qualunque esso sia, ovviamente non vuol dire che se dura un anno o per un anno continuano ad andare giù, vuol dire soltanto che magari raggiungerà un prezzo target e poi rimarrà lì per un bel po' di tempo, letteralizza, rimane lì, sta calmo e poi aspetterà il halving o qualunque evento che lo faccia smuovere, quindi molto importante da seguire questo, un'altra cosa da seguire è l'index del dollaro americano, il DXY, che andiamo a vedere, guardate qui il DXY, come ho già detto ragazzi, quando ha rotto questa, bam, sapevamo già che dovevamo shortare i mercati, quindi un altro dato da tenere sott'occhio, il DXY sicuramente, questo quando sale ovviamente gli indici americani scendono e così via. Adesso come vedete ha rotto il 0,7, ok guardate qui c'è stata la rottura e noi abbiamo già parlato di questa rottura e questa rottura potrebbe portare al massimo dei 120, se voi usate questi strumenti per investire per voi sarebbe molto utile, nel senso che comunque una volta arrivato qui potete già cominciare a accumulare alcuni stock, alcune cose, io uso questo per investire solitamente e non è male come cosa, ovviamente se arriva quassù, cosa che non penso però potrebbe arrivare quassù, sarebbe già assurdo, cioè vedremo veramente un drop del mercato pazzesco, andremo giù dei livelli molto bassi, però come vedete qui, guardate qui la trendline, qui c'è sempre l'analisi tecnica ragazzi, quella in cui non crede mai nessuno, guardate qui per esempio noi abbiamo avuto due tocchi, la rottura, il ritest e l'app, la rottura qui che è successa circa a febbraio 15, è stata proprio quando la Fed ha cominciato ad avvisare che avrebbe alzato i tassi di interesse, quindi vedete che anche studiando queste cose, queste cose che io guardo non tutti i giorni, perché non ha senso guardare tutti i giorni, però una volta a settimana, una volta ogni due settimane siete investitori a lungo termine, vi consiglio di darci un'occhiata, farci l'analisi tecnica, soprattutto se avete fatto dei corsi sapete come fare l'analisi tecnica, come vedete anche qua, adesso potremmo mettere una bella up line, una bella trend line qui e abbiamo una nuova trend line che comincia, come vediamo per esempio anche qui abbiamo una bella trend line, quindi vediamo se la rompe oppure viene rigettato per poi continuare il rialzo in maniera più fluida, quindi anche questo da tenere sott'occhio sicuramente, poi altra cosa, Nasdaq ragazzi andiamo a vedere, al momento il Nasdaq sta facendo un piccolo relief, quindi si sta prendendo un po' di relief per quanto riguarda il dump che c'è stato, però ha formato questa bearish flag, quindi sto guardando questa bearish flag, come vedete l'indicatore GTI è disponibile per chi è dentro il Discord come premium, ci ha dato due ottimi segnali di short, quindi io di solito uso un trend, due ottimi segnali di short sulle 4 ore che ovviamente sono stati molto profittevoli, se mi viene da una quinta, una quarta, allora avremo preso 3 su 3 in trend perfettamente, anche questo funziona molto bene sulle crypto, lunghi time frame, quindi dall'orario in su, ovviamente bisogna che fate la vostra analisi tecnica e lo usate anche come conferma, ma c'è molta gente che lo usa in questo momento e lo trova molto molto utile anche perché vi dà i supporti e le resistenze principali da tenere sott'occhio. Poi per quanto riguarda Bitcoin invece vediamo che dopo la rottura di questa falling wedge, dopo la rottura di questa flag, questa bearish flag che è un continuation pattern, quindi queste bearish flag solitamente compaiono durante dei dump pesanti in cui c'è una ripresa, ma poi dumpano di nuovo. Ed è quello che io voglio spiegare a molti che fanno le analisi, c'è gente che vedeva delle bearish flag qui, cioè la cosa migliore nel continuation pattern è prenderli in un trend, in una continuazione di un dump, come in questo caso, questa per esempio era molto facile da tradare perché comunque avevamo avuto un mega dip, ripresa, dip, è questa che forma la bearish flag. Quindi capire il concetto per il quale si forma diciamo un pattern e non soltanto capire come è fatto il pattern aiuta molto, perché se no vedete pattern ovunque. Il motivo per cui la gente vede il pattern ovunque è proprio per il fatto che non capiscono perché si formano e quindi pensano che quello sia un pattern. Quindi bisogna capire perché si formano e così riuscirete a vedere solo quelli che veramente compaiono e non qualunque candela che assomiglia a una bearish flag. Quindi studiare sempre la psicologia del mercato più che diciamo la sua forma pura in senso di pattern e diciamo geometria. Poi per quanto riguarda adesso in questo momento io sto guardando questo puntino qui che adesso vi ho disegnato, 20.800 dove si trova l'ultimo supporto che è diventato resistenza e dove si trova questa trendline che sta accompagnando la discesa di Bitcoin. Questo al momento non c'è nessun pattern sensato, questo per me non vuol dire assolutamente niente a parte una zona di accumulo probabilmente prima di una distribuzione prossima. Quindi sto guardando questa cosa ma a rispetto di questo che mi ha dato una bellissima flag e per me questo non ha nessun senso quindi non prenderei questo a meno che non prendo un trailer qui con uno stop loss qui e vedo un attimo se mi pro al rigetto. Ovviamente aspetterai un rigetto con dei volumi e non andrei a caso. Ovviamente per chi ha il GTA e chi usa il GTA vedete qui c'è stato un ottimo segnale prima del dump e poi non c'è più dato segnali però io uso come segnali anche queste M rosse. Queste M rosse vuol dire che il prezzo in una zona è molto dangerous quindi siamo sotto degli importanti livelli sia di resistenza supporto che pivot mensili e giornalieri e quindi potete semplicemente usare questo come chi ovviamente ha il GTA può usare semplicemente questo come segnale per piazzare qua degli ordini short e poi shortare. Come per esempio qua vedete finché queste rimangono rosse noi siamo ancora bearish quindi chi si chiede per esempio sta ritornando sulla luna no perché questi segnali ve lo dicono non c'è nessuna luna siamo ancora sulla terra. Quindi poi per quanto riguarda invece velocemente ethereum anche solo che molti seguono ethereum uno dei miei preferiti che se vi ricordo è uno di quelli che a 2000 avevo detto di scaricare perché ovviamente la fiducia degli investitori calava e la gente voleva portarlo a 2000. Si vedeva sul chart che l'obiettivo era portarlo a 2000, 2000 ormai era il target prefissato dagli investitori, 2000 è stato, 2000 ho venduto, 2000 ho venduto di vendere e così via. Come vedete adesso c'è questa trendline ovviamente che sta seguendo il prezzo che ha rispettato benissimo anche l'ultimo dump quello nella zona dei 1700, nella zona adesso questa qui dei 2000 quindi cominciato dai 2000 c'è dato questa trendline quindi sto guardando questa trendline se tiene o se rompe ovviamente la rottura di questa trendline con dei volumi. Una piccola ripresa del Nasdaq potrebbe dare via un altro pump ok cosa che comunque non mi aspetto nel futuro diciamo molto prossimo però vediamo che intanto ci abbiamo una forte supporto nella zona dei 1450 qui si è formato una head and shoulder una specie di head and shoulder in questa zona con target che arriva fino ai 1250 ok quindi sto guardando un possibile rigetto da questa zona qui sul giornaliero anche se andiamo sul giornaliero ovviamente vediamo che ancora non ha chiuso, abbiamo avuto un mega buy back come vedete qua hammer candle, le hammer candle sono molto bullish quindi vediamo se viene rigettato perché se questa viene rigettata con qualche candela bearish allora vuol dire che questo head and shoulder viene confermato perché il ritesto del head and shoulder è solitamente la parte più gustosa del trade, il rigetto e non la rottura solitamente. Poi per quanto riguarda invece altri asset, adesso non li farò perché non ho molto tempo magari oggi pomeriggio farò un altro video, parliamo un attimo di alcune notizie, allora dirigente della JP Morgan, la maggior parte delle crypto valute è ancora spazzatura, assolutamente d'accordo e questa è una cosa che io vi ho detto in precedenza, penso anch'io che molte delle crypto non recupereranno più quindi non basatevi sull'ultimo bull market perché comunque anche nel 2017 chi si è basato su quello e investiva guardando quelle crypto, ah quella adesso ha un centesimo ma è arrivato a 3 dollari, non è mai arrivata 3 dollari di nuovo, è morta perché dovete capire un concetto molto semplice, che molti progetti non sopravvivono se non hanno fondi da investire, non hanno denaro e solitamente la maggior parte delle volte i loro fondi sono rappresentati dai token che holdano e se i token che holdano diventano veramente, perdono di valore quindi da che avevano 100 milioni in token ne hanno per esempio 500 dollari, non hanno soldi per avanzare la tecnologia, non hanno soldi per stare dietro le cose neanche per pagare il team quindi vanno a morire, altra cosa per esempio Gala, uno di quelli che continua a investire l'altro giorno c'è stato il sale del Spider Tanks node, se volete farò anche un video, anzi farò un video perché mi piace molto, ho anche acquistato il nodo, sopravviverà perché ha fatto un sacco di soldi durante il bull market, ha venduto, ha rinvestito infatti Gala fino al pump del suo coin, praticamente non esisteva, una volta che ha cominciato a pumpare il suo coin, Gala ha cominciato a lanciare giochi, ha fatto Gala music, ha fatto Gala film, ha investito molto quindi è stato molto intelligente a rinvestire tutto, a distribuirlo nella community, distribuendo nella community e la community continua a investire in loro e così via, quindi solitamente d'accordo con il fatto che la maggior parte sono spazzature, se andiamo a vedere quante criptovalute ci sono, penso tipo un 7.000, 8.000 criptovalute, non lo so neanche però queste sono solo quelle listate senza tener conto di quelle shitcoin che non sono listate neanche qua, 9.600, 9.600 criptovalute, neanche bitcoin c'è ancora un'utilità, quindi vediamo, non penso che 9.600 criptovalute hanno comunità, sono soltanto speculative, è un mondo molto speculativo, un po' come le penny stock, ovviamente è buono da usare a vostro favore, sapete come farlo, io nelle academy ho scritto dei corsi come approfittarsene delle shitcoin e delle meme coin, quindi come tradarle, è stato il corso più amato diciamo dagli studenti e fino adesso ancora quando ci sono questi pump come l'ultima volta abbiamo preso delle ottime shitcoin con 300, 400, 1000%, 2000%, numeri assurdi, quindi faccio vedere proprio in maniera scientifica, proprio in maniera diciamo numerica, in maniera logica e come usare la blockchain a vostro favore per individuare questi pump, quindi ragazzi facili, poi chiunque l'ha fatto l'ha capito molto velocemente, vi consiglio di darci un'occhiata se volete, per quanto riguarda il total market cap, siamo sotto il trilione, zona pericolosissima perché il trilione rappresentava un supporto, quindi adesso il trilione, se rimane troppo tempo, se la settimana chiude sotto il trilione, probabilmente diventerà resistenza, quindi attenzione a questa cosa, di questo numeretto, deve ritornare sopra il trilione per mantenersi se voi volete che mantenga, 67.000 volumi che fanno veramente schifo, quindi sapete che i volumi buoni sono sopra i 100 miliardi, in questo momento sono dei volumi vergognosi poi, questo non mi interessa, mentre gli utenti facebook e instagram possono pubblicare i propri NFT su entrambe le piattaforme, assolutamente cosa non molto, cioè in senso, bella ma, bella ma sì, diciamo che gli NFT in questo momento, il problema è questo, sono ancora un'apparenza, un modo per flexare, come dicono i giovani, diciamo, i propri oggetti sulla rete, io aspetto quelli con utility, per quello che io investo nei gaming, e la cosa è questa, io sto facendo una scommessa sui gaming, ok? Posso fallire o posso fare il boom, ok? Cosa vuol dire? Che io quando investo negli asset speculativi, cerco quelli che hanno valore, quelli che o vanno male, quindi parto quei 2-3-4 mila dollari, o vanno bene, faccio 100k, 200k, questo cosa vuol dire? Adesso molti flippano gli NFT, quelli lì, ah, il meme coin, l'NFT di Michael Jackson, l'NFT di Tyson, l'NFT di Lala, quelle lì, quelli non hanno utility, non vogliono dire niente, sono solo belli da vedere, ma a un certo punto la speculazione passerà all'utility, quindi quelli che si possono usare nei giochi, quelli che daranno reward, tutti questi NFT avranno valore, e quindi io sto puntando su quelli, anche se al momento non ti danno niente, al momento io ho comprato gli NFT che non fanno niente, a parte rimanere lì e aspettare che il gioco sia completato, però seguo gli sviluppi del gioco, seguo gli sviluppatori, seguo quello che succede, se mi piace investo, per esempio Spider Tanks mi piace tantissimo, la gente anche se non ha i reward nella versione beta, 600k match, 600k match senza reward nella versione beta, immaginatevi quando cominciano a dare i reward e ci sarà un sistema di economico, quanti giocatori, quanti match ci saranno in un anno, quindi queste sono le cose che io guardo, i dati che io guardo, non mi interessa se Onila ha fatto un NFT, perché Onila alla fine dopo non sa neanche cosa è un NFT, lo fa solo per speculazione, quindi a meno che non sapete flippare gli NFT nel giro di un o due giorni, rischiate di perdere i vostri soldi. Adesso aggiornerò ovviamente anche il corso di NFT, non ho avuto tempo quest'estate, è stata veramente corta e piena di cose da fare, però appena lo aggiorno, anche perché sto osservando il mercato, quindi voglio dargli il più valore possibile, reale, metterò nuove nozioni molto importanti per gli investimenti più, è il flip anche degli NFT se mi interessa flipparli. Bitcoin è una delle peggiori criptovalute, sostiene il fondatore di Cyber Capital? Allora, io ho letto questo articolo, appena visto ovviamente il titolo ho detto, what? Cosa? Questo è Justin Bonds che è anche il chief investment officer del fondo Crypto Cyber Capital, quindi una persona che di cripto comunque c'è a che fare, non so se è un esperto, però assolutamente se uno apre a questo ruolo sicuramente ne capisce qualcosa. E sono andato a leggere alcuni punti, volevo anche guardarli con voi. Allora, dice Bitcoin è unico in quanto tecnicamente è una delle peggiori criptovalute, questo è vero, tecnicamente è una delle peggiori perché non ha gli smart contract, non puoi fare niente, non è compatibile, non fa assolutamente niente, quindi dice ha un modello di sicurità a lungo termine praticamente rotto, manca di capacità, programmabilità, componibilità, le sue economiche deboli rispetto alla concorrenza e la fede perché non è puramente spuglativo. Quindi qua dice che ovviamente a livello di programmazione, di compatibilità, di tecnologia è arretrato e questo sono solo appuratamente d'accordo, io studio queste cose quindi so che a livello tecnico lo ammetto, Bitcoin è veramente, diciamo, non ha delle migliori tecnologie al mondo in questo momento. Ovviamente non come Ethereum che puoi fare gli smart contract, ci puoi costruire sopra i layer, tutte queste cose qui. E poi ovviamente puoi avanzare, puoi programmarlo, puoi farlo migliorare, quindi se fra 10-20 anni escono nuove cose che servono per E, puoi riprogrammarlo per quelle cose lì, puoi fare il merge, tutte quelle robe. Poi, in quanto la gestione di aumentare il limite, ok qua c'è stata, mi ricordo, nel 2014 è stata la decisione di aumentare il limite della dimensione dei blocchi e molti sono rifiutati, da lì che è nato Bitcoin Cash, chi segue il mercatore del crypto sa cosa è Bitcoin Cash, Bitcoin Cash praticamente è stato, diciamo, quando c'è stato questo conflitto qua di aumentare i blocchi, diciamo la dimensione dei blocchi per avere più transizioni, questo lo spiego anche nei miei qualsiasi che non funziona, c'è stato questo split della rete, questo fork della rete, quindi questo è un fork della rete in cui alcuni hanno deciso di seguire questa cosa, riprogrammare i loro miner, altri invece no e quindi c'è stato lo split, molti sono andati con Bitcoin Cash, minali, altri invece con Bitcoin. Quindi come dice, un grande allontanamento dalla visione e dello scopo originale di Bitcoin, quindi dice che la visione è una cosa mentre quello che sta diventando Bitcoin è un'altra cosa e probabilmente chi è d'accordo e chi no, cioè Bitcoin adesso sta diventando, dicono, l'oro digitale, quindi un modo di storare i propri soldi, tutte queste cose qui che si vedranno solo in futuro se sono vere o no, raro ovviamente, quindi chi vuole la rarità, vuole essere unico, vuole essere è, investe in Bitcoin. A livello invece, per esempio, di visione, quando invece Satoshi aveva fatto il PMOI paper, voleva che Bitcoin diventasse la moneta mondiale, diciamo si sta allontanando da questa visione, e ci sono altre coin che invece, altri coin, altri token che si stanno avvicinando di più a questa visione di Satoshi, quindi in un certo senso sono d'accordo su alcune cose, affermazioni che lui fa. Poi, il mondo è andato avanti ed è progredito, ricordo quando si diceva che Bitcoin avrebbe gradualmente adottato nuove tecnologie, questa tesi non si è ovviamente realizzata, adatto che Bitcoin non supera smart contract, tecnologie per la privacy e innovazione, quello che ho detto prima io, anche la scalabilità non va bene, anche la qualità economica di Bitcoin, ecco qua parlo a livello economico, dice che Bitcoin ovviamente ha un limite di supply, però adesso noi abbiamo delle tecnologie che addirittura sono deflazionate, quindi vanno giù dal loro limite, per esempio Ethereum che è deflazionato, dopo il merge abbiamo Avax, Near e Eagle che sapete sono tra i miei preferiti, quindi sicuramente d'accordo su alcune affermazioni, non so voi cosa ne pensate, anzi fatevelo sapere nei commenti se pensate che queste affermazioni hanno un senso, quindi qua dice Bitcoin è un asset puramente speculativo, la maggior parte che investe in Bitcoin solamente perché crede che il prezzo aumenterà, assolutamente vero, sono sostanzialmente allo stesso modo, sto parlando di chi investe nell'ischiama Ponzi, vabbè qua diciamo che compare i Ponzi forse un po' esagerato, in tutta la posizione della generazione fondamentalmente come ricavi, utilità, analisi dei casi d'uso, è vero diciamo che se i casi d'uso cominceranno ad essere in prevalenza su questo mercato, Bitcoin potrebbe essere in svantaggio. Ragazzi questo è quello che volevo farvi vedere oggi, intanto guardate anche il dollaro, qua parla del dollaro americano ai massimi, ok? E niente questo è tutto per quanto riguarda la puntata di oggi, spero vi sia piaciuta e più tardi se riesco se no domani farò un'altra puntata su un'analisi un po' più approfondita e per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video.